Zoltan Fazekas, tecnico delle giovanili dell'Item Noto Catania, anche quest'anno la società rossa-azzurra al via di tanti campionati giovanili dall'Under-17 all'Under-13, sempre con grandi ambizioni. Sì, come al solito partecipiamo all'Under-17 del campione nazionale che è più avanzato come tempi questo campionato perché già siamo nella fase interregionale e la fase regionale abbiamo vinto avanti Tenimar e adesso dobbiamo confrontarsi con le realtà importanti come le squadre napoletane e campane. Obiettivo finale ovviamente è la crescita del vivaio per portare quanti più giovani possibili in prima squadra. Sì, questo è il nostro obiettivo perché già nella prima squadra giocano tutti i catanesi e di là dobbiamo dare sempre il cambio generazionale. Per questo motivo stiamo organizzando un stage in Serbia, un altro torneo importante Under-13 a Civitavecchia per uscire fuori anche da contesto siciliano. In chiave derby domani sta cittadina con la Muri Antichi, partita importante in chiave classifica per la prima squadra. Sì, noi cerchiamo di vincere nonostante che abbiamo sui vari livelli anche tante collaborazioni però ora questo per un'ora dobbiamo mettere a parte per mettere in cassaforte i tre punti. Grazie. Grazie.